Ciao! Oggi prepariamo una crema di carote con totani alla paprika dolce e semi di zucca. Ci mettiamo ai fornelli? Prima mossa, preparazione e cottura delle carote. Fritate finemente la cipolla, pulite le carote e tagliatele a rondelle sottili. Fate imbiondire la cipolla con un filo d'olio extravergine d'oliva. Appena pronte, unite le carote. Aggiungete un bicchiere d'acqua calda, salate, coprite con un coperchio e lasciate andare. Seconda mossa, preparazione dei totani alla paprika. Prendete i totani, divideteli a metà nel senso della lunghezza e tagliateli a striscioline sottili. Mettetele in un recipiente e conditele con olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero, paprika, abbondante. Girate bene in modo che si insaporisca tutto al meglio. In una padella antiaderente, scaldate un filo di olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio in camicia. Appena è caldo, unite i totani. Fate cuocere a fiamma vivace e appena diventano bianchi, toglieteli. Quarta mossa, crema di carote. Mettete le carote con il sugo di cottura nel bicchiere di un mixer di immersione. Assaggiate, se necessario regolate di sale e pepe e frullate, fino ad ottenere una crema molto liscia. Quinta mossa, impiattiamo. Mettiamo la crema di carote in una fondina, uniamo i totali, decoriamo con i semi di zucca. E poi mi raccomando, prima di servire, una macinata di pepe nero e un filo d'olio. Ecco il piatto. Bello, vero? Indominate un po' io adesso che faccio. Sì, mangio. E io? Tu? Che niente, mangio io. Ciao!